La candidata nei sei nomi della Lega Nord in provincia di Cuneo, in questo bellissimo gruppo, rappresenta la zona del Mora Egalese. Sprechi in Regione Piemonte, che cosa si dice? Allora, di sprechi in Regione Piemonte con la giunta a Bresso ce ne sono stati tanti. Quello che sicuramente a noi sembra uno spreco enorme, specialmente in questo periodo di crisi, dove le nostre aziende chiudono e i nostri lavoratori restano a casa senza lavoro in un periodo di così grande criticità, per tutti noi lavoratori è stata una cosa, secondo me, assolutamente inqualificabile il fatto di spendere 5 milioni di euro a favore degli zingari. Questo è solo uno dei tanti sprechi che ci sono stati in Piemonte con la giunta a Bresso e noi vogliamo assolutamente toglierli tutti. Bisogna abbattere questi sprechi, con la Lega Nord si può e si deve assolutamente fare. Noi ci batteremo per questo, che chiunque venga votato della Lega Nord, noi siamo sicuri che si batteranno per questo.